buongiorno a tutti e a tutte cari amici e amiche di le fonti tv siamo in diretta e come sempre il nostro appuntamento con market star in cui diamo un'occhiata all'inizio del mese a quello che è la situazione gli andamenti del mercato cosa sta influenzando maggiormente e dove stanno andando gli investitori per accompagnarci questa non facilissima sfida abbiamo qui con noi come sempre Sara Silano che è editorial manager di morning star italy collegata bentrovata buongiorno buongiorno a tutti voi buongiorno Sara e allora non possiamo che cominciare dalla stretta attualità visto che il conflitto in Ucraina continua sono praticamente più di due mesi che va avanti e ovviamente è anzitutto una tragedia dal punto di vista umanitario per cui tutti quanti ci auguriamo che termini prima possibile ma ci sono anche poi delle ripercussioni sui mercati finanziari delle ripercussioni economiche e poi sui mercati qual è la tua opinione soprattutto sul fronte economico immagino ti associerai anche a me su quello umanitario ovviamente assolutamente veramente tutti ci auguriamo che questa guerra finisca il più presto per il prezzo di vite umane che stiamo vedendo e di atrocità dal punto di vista dei mercati dobbiamo dire che dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina a fine aprile le borse europee hanno perso oltre il 4% guardando all'indice Mornestral Europe quindi possiamo dire che sostanzialmente hanno risentito le borse europee di questa situazione e quella italiana ancora di più se guardiamo all'indice dei mercati globali è positivo anche quello statunitense è positivo su quello statunitense però fatemi fare una precisazione perché se guardiamo ai ritorni in euro sono positivi invece i dollari sono negativi la differenza sta esattamente nel rapporto euro dollaro tasso di cambio quindi dato che la divisa comunitaria è scesa ai minimi sul biglietto verde dal 2007 sia per le diverse politiche delle banche centrali sia anche per il fatto che il dollaro beneficio dell'avversione al rischio quindi che aumenta l'interesse per i beni rifugio sappiamo che questa divisa è considerata anche un bene rifugio in generale possiamo dire che il complito ha generato nervosismo, ha generato ribassi e i mercati ancora oggi si muovono in base alle notizie che arrivano da Chiette e questo genera sicuramente instabilità Ecco però proprio su questo punto mi sembrava interessante interromperti perché è vero che sicuramente è l'evento che sta caratterizzando tutto questo nostro periodo e che sta mettendo a dura prova le coscienze da una parte e l'economia dall'altra però in un certo modo potremmo dire che i mercati quasi si sono ormai abituati dopo i primi momenti di sbandamento a fine febbraio, inizio marzo come abbiamo visto anche dal tuo grafico della caduta già dai primi di marzo però vero o male è un tema che ormai viene quasi assorbito mi verrebbe da dire al di là delle contingenze di quello che può ancora succedere però ci sono tanti altri invece fattori che restano delle incognite sui mercati Ce ne sono molte, guardando avanti sicuramente il discorso di embargo petrolifero e del gas aggraverebbe le pressioni inflazionistiche quindi questo è un aspetto guardando all'Europa dobbiamo pensare agli sviluppi politici in Francia è stato rieletto Emmanuel Macron però il Presidente riuscirà ad avere una maggioranza al voto parlamentare di giugno che quindi gli permetterà di proseguire sulla strada pro Europa quindi altra incognita e poi c'è la paura delle cosiddette 3R americane c'è la recessione globale, una recessione globale per il momento gran parte degli analisti si sentono di escluderla però l'economia sta rallentando rialzo dei tassi di interesse di stretta attualità oggi con la Federal Reserve riduzione dei reti familiari reali e a questo chiaramente il rischio geopolitico ricordiamo che il Fondo Monetario Internazionale ha comunque rivisto, ha ribasto le stime di crescita mondiali, le politiche monetarie delle banche centrali diventano più restrittive quindi nella costruzione di un portafoglio anche di un investitore queste cose vanno tenute in considerazione senza però farsi prendere dalle motività di breve periodo e cercando di capire quelli che possono essere più le traiettorie di lungo periodo è un bel proposito quello di non farsi prendere dalle motività anche se sappiamo che è abbastanza utopistico come obiettivo, è molto difficile perché poi spesso i mercati si muovono anche sulla scorta delle motività, delle notizie quotidiane e questo lo si vede molto nelle oscillazioni nel breve, nel quotidiano però anche a lungo termine diciamo c'è qualcosa che sta cambiando i mercati e i sistemi economici in generale stanno cambiando anche sotto l'influenza di questa nuova globalizzazione Assolutamente sì, ci sono tanti temi chiave oggi all'ordine del giorno quello energetico è forse quello che ci viene più spontaneo di ricordare perché comunque è chiaro che abbiamo ancora bisogno del petrolio è anche chiaro che questo sta uccidendo il pianeta e finanziando la guerra lo abbiamo detto molto bene e lo abbiamo visto in occasione anche della giornata mondiale della Terra del 22 aprile quando si è parlato tanto di questo tema bisogna sicuramente andare verso fonti energetiche alternative ma di fatto la situazione attuale che appunto si parla ancora di tenere aperte centrali a carbone e abbiamo tanto bisogno del petrolio e del gas naturale un altro tema che è comunque scottante è quello delle armi soprattutto per gli investitori sostenibili escludere le armi dal portafoglio sembrava una cosa data per assodata ma oggi si parla di armi come sono davvero uno strumento necessario per proteggere la pace e la democrazia quindi un dibattito aperto, molto aperto in un momento, in una fase in cui gli investimenti sostenibili negli ultimi anni sono cresciuti molto e probabilmente dovremmo aspettarci di avere ancora due correnti di pensiero una che sposa l'esclusione del tutto e l'altra che probabilmente sarà più ampia come visione e riterrà comunque un qualche forma di investimento di questo tipo necessario per preservare la pace e la sicurezza però sono delle grandi sfide veramente oggi Sicuramente una visione a lungo termine è difficile da immaginare in questo momento hai parlato, hai illuminato anche tu poco fa i rating dei vari paesi io vorrei andare però sul concreto, sul nostro paese il vostro indice, leggevo che l'agenzia Morningstar ha riconfermato il rating sovrano dell'Italia per i prossimi mesi vi aspettate altrettanto? L'agenzia DBS Morningstar ha confermato il rating di lungo termine sul debito sovrano a BBI con un trend stabile quindi sì un trend che è considerato stabile l'offensiva russa in Ucraina chiaramente sta offuscando le prospettive economiche però dall'altro lato ci sono dei fondamentali che sembrano essere solidi ci sono delle cose diverse rispetto al passato la crescita sicuramente dovrebbe essere sostenuta dall'implementazione del piano nazionale di ripresa e resilienza che ormai tutti conosciamo come PNRR e anche dall'alto grado di diversificazione produttiva che ha l'Italia forse il nodo più critico anche per l'Italia è quello delle forniture di gas naturale date proprio la dipendenza da Mosca è vero ci sono oggi in corso sforzi da parte del governo per ampliare e diversificare le forniture però ci vorrà del tempo quindi questo rimane comunque un'incognita un'incognita che appunto potrebbe poi infiammare ulteriormente l'inflazione che abbiamo visto ha già raggiunto dei livelli molto alti per effetto dei sopravviventi energetici e non solo poi ha anche costretto il governo a correre ai ripari con un nuovo pacchetto di aiuti per famiglie e imprese lo abbiamo sentito proprio in questi giorni in effetti ci troviamo proprio di fronte a una situazione per cui queste politiche governative si sono rese necessarie i nostri analisti di DBRS e Mornistar comunque ne valutano positivamente sia gli sforzi del governo per diversificare le importazioni ma anche quelle per mantenere comunque il rapporto debito-pil sotto controllo quindi una politica fiscale che siccome abbiamo visto dei miglioramenti non ci riporta in situazioni diciamo drammatiche è un po' un gioco di equilibrismo in questo momento per il governo perché da una parte ci sono appunto questi fenomeni inflattivi dall'altra non si vuole sforare non si vuole fare un nuovo sforamento di bilancio e quindi rimanere entro quelli che sono i confini che anche l'Unione Europea ha detta e dall'altra però abbiamo un conflitto in corso e l'approvvigionamento di gas che come giustamente citavi resta un problema il pacchetto di aiuti del governativo non soltanto andrà ad aiutare le famiglie ma proverà anche ad aiutare le imprese siamo proprio in un periodo di trimestrali come spesso avviene come sempre avviene proprio in questo periodo e allora la vostra visione è proprio per parlare delle imprese su quelle in corso su chi ha già dichiarato i propri dati Sì, abbiamo visto interessanti risultati in questo periodo e comunicazioni dalle aziende americane risultati missi ad esempio pensiamo a quanto ha fatto rumore il crollo in borsa di Netflix dopo l'annuncio del primo palo degli abbonati della piattaforma ma non possiamo non parlare sempre guardando gli Stati Uniti di Tesla che ha comunque riportato utili solidi è una società che secondo i nostri analisti potrà continuare probabilmente a incrementare i prezzi delle sue auto e ridurre i costi di produzione e quindi ancora prospettive positive secondo i nostri analisti ma guardiamo anche Amazon Amazon ha deluso forse anche l'effetto post-covid la voglia di ritornare a spendere nei negozi quindi di tornare più a un'attività di acquisti fisici e poi anche Meta Facebook ha deluso c'è da dire che insomma i grandi giganti della tecnologia non hanno brillato in questo momento sì, l'altro lato della medaglia è che comunque oggi molte di queste società fanno sottovalutate quindi sostanzialmente per chi crede in questo tipo di sviluppo nel settore tecnologico forse può essere anche un'opportunità beh sicuramente è da tenere d'occhio ed è quello che è successo nell'ultimo mese come si sono comportati i fondi nell'ultimo momento nell'ultime settimane? gli investitori in fondi hanno risentito chiaramente della guerra delle crescenti preoccupazioni per la ripresa economica delle pressioni inflazionistiche infatti abbiamo visto che i fondi a lungo termine domiciliati in Europa hanno avuto dei deflussi di circa 1,6 miliardi di euro che è il peggior risultato mensile in termini di raccolta degli ultimi due anni ciò è dovuto soprattutto ai riscatti che abbiamo visti nei prodotti del reddito fisso e in quelli azionari azionari quindi timore legato alle borse reddito fisso più legato appunto all'inflazione e all'aumento dei tassi di interesse anche da dire invece che i fondi specializzati sulle materie prime hanno avuto un primestre molto positivo chiaramente gli investitori hanno cercato rifugio nell'oro e questi strumenti sono un veicolo anche per investire nell'oro a proposito invece di ETF l'industria europea ha risentito di questa volatilità dei mercati? diciamo che il patrimonio degli ETF europei è rimasto praticamente invariato rispetto a fine 2021 intorno a 1,4 trilioni di euro però gli investitori hanno continuato a puntare su questi strumenti quindi i mercati hanno rappresentato un elemento negativo ma invece gli investitori hanno continuato a investire in ETF e quindi ci sono stati dei plus positivi nel corso del trimestre del primo trimestre la preferenza è andata verso gli ETF azionari ma qui anche per una questione proprio di scelta che appunto tra gestione attiva e passiva sembra che l'ETF quindi la gestione passiva in questo momento sull'equity premi di più che però ci siano dei tempi incerti lo si vede nel caso degli strumenti specializzati sulle materie prime e in particolare loro che hanno avuto un periodo di raccolta molto positiva nel segmento azionario gli investitori hanno scelto l'America hanno scelto gli azionari internazionali chiaramente l'Europa ha sofferto di più per la guerra e quindi è stata un pochettino lasciata da parte mi preme anche dire invece nel segmento obbligazionario un trend che andrà monitorato probabilmente nei prossimi mesi che è quello delle fuoriuscite dagli ETF su bond in valuta cinese sono stati strumenti che hanno avuto molto successo nel 2021 ora bisognerà capire se questa fuoriuscita è momentaneo oppure c'è un fenomeno più strutturale grazie grazie Sara è chiaro che qui ci muoviamo ancora in quelli che sono considerati poi gli investimenti più tradizionali però la fanno ancora da padrona perché la gran parte dei movimenti economici delle cifre che ora ci descrivevi ovviamente vanno su quelli che sono gli investimenti più consolidati però si guarda anche a fondi alternativi ci sono tante novità che emergono e che cominciano a conquistare spazio ce n'è una di cui ci vuoi parlare che sembra molto interessante in prospettiva stiamo guardando attentamente con i nostri analisti dedicate alle strategie alternative diverse di queste strategie anche perché c'è stato un ritorno di interesse da parte degli investitori verso questo tipo di fondi noi abbiamo notato ad esempio in un'analisi sui fondi event-driven che questi fondi hanno prodotto dei risultati media positivi in 10 degli ultimi 12 anni e la ragione sta nella bassa correlazione con il mercato che quindi li rende una buona alternativa ad azioni e obbligazioni ricordiamo che le strategie event-driven sono prevalentemente strategie azionarie e consistono nel prendere delle posizioni lunghe e corte in titoli di aziende che stanno attraversando un periodo di cambiamento ad esempio fusioni spin-off liquidazioni bancarotto altrimenti societari la maggior parte diciamo è legata a merger acquisition quindi fusioni acquisizioni è una categoria alternativa che è una di quelle che ha le performance più solide nel tempo anche se presenta una grande dispersione dei risultati quindi a secondo della strategia che si sceglie ci si potrebbe ritrovare in quello che io sto dicendo oppure non ritrovare perché comunque la strategia non è stata così premiante quando io parlo di strategia e vendri chiaramente guardo delle medie poi la singola strategia guardata singolarmente e analizzata in ogni caso quello che le rende interessanti è il basso beta quindi nei confronti delle azioni ma anche la versatilità nelle fasi di ribasso del mercato obbligazionario e per questo che probabilmente anche gli investitori ora sono un po' tornati a guardare con interesse a questo tipo di strategia abbiamo dato un'occhiata a quello che è la situazione odierna del mercato a quelli che sono le variabili che lo stanno influenzando maggiormente abbiamo visto investimenti un po' più tradizionali alcune delle novità tra l'altro tra poco l'hai citato di sfuggita ma tra poco ci concentriamo invece sull'aspetto della sostenibilità anche questo non è più non possiamo più considerarla una novità ma sicuramente negli ultimi anni è qualcosa che ha smosso tanto nel mondo dei fondi di investimento prima però di concentrarci su questo tema io invece andrei a catturare la tua attenzione sul vostro premio i Morningstar Awards io li ho trovati anche sul vostro vostro sito morningstar.it insomma sono dei premi che ricevono alcuni fondi allora che caratteristiche hanno le società che si sono aggiudicate questo riconoscimento stiamo parlando più di fondi più tradizionali oppure fondi che integrano queste strategie più innovative come ci dicevi allora siamo giunti alla sedicesima edizione dei premi Morningstar dei Morningstar Award e in alcuni casi e questa è un'edizione particolare perché c'è stato alcuni elementi di novità diciamo che l'elemento di continuità rispetto al passato è il fatto che Morningstar vuole riconoscere i fondi e le società di gestione che hanno servito bene gli investitori non soltanto nell'ultimo anno solare quindi breve periodo ma anche nel lungo termine in un arco almeno di 5 anni i riconoscimenti vengono dati sulla base del lavoro del team di ricerca di Morningstar a livello di analisi qualitativa dei fondi il cosiddetto Morningstar Analyst Rating e a fondi diciamo più appartenenti a strategie tradizionali perché abbiamo premiato un azionario Italia un Europa internazionale obbligazionario Euro bilanciato Euro ma questo anche perché sul fronte delle strategie alternative come dicevo prima c'è ancora una grande dispersione e spesso gli strumenti a disposizione in Italia sono ancora pochi quindi è difficile poter fare un'analisi di peer group che abbia significatività abbiamo anche premiato la migliore società nel suo complesso quella che ha più allineamento con l'interesse degli investitori e anche elemento di novità quella invece nel campo degli investimenti sostenibili perché riteniamo che questo sia un aspetto veramente fondamentale oggi per la grande attenzione che hanno gli investitori su queste tematiche ed ecco vediamo proprio allora a questo al tema della sostenibilità c'è una domanda crescente di fondi climatici diciamo che il mercato si sta ridimensionando sta cambiando le proporzioni dei fondi e dei loro investimenti ma citavamo poc'anzi il discorso dell'approvvigionamento del gas abbiamo parlato del piano nazionale di riprese e resilienza che nasce proprio dalla next generation EU che è un piano che poi deve anche avere proprio alla base dei meccanismi di trasformazione dei meccanismi che portino verso una società più sostenibile ecco è un tema che stiamo imparando a conoscere tutti prima era magari più appannaggio degli addetti ai lavori adesso si sta invece diffondendo sempre di più tra le persone nei nostri gesti quotidiani e ovviamente anche e soprattutto nei fondi di investimento che anche qui prima era tanto un tema da analisti ecco si andava a cercare il fondo che magari aveva nel portafoglio questi investimenti sostenibili o che destinava i propri investimenti solo ad aziende che dimostrassero una certa attenzione in questo tema però anche qui stiamo trovando uno shift perché vengono proposti anche al grande pubblico anche commercialmente fondi che si propongono e si definiscono sostenibili dunque le dimensioni le strategie come vedi tu questo fronte sarà destinato ancora a crescere sì è interessante notare proprio oggi abbiamo rilasciato freschi i dati sul primo trimestre abbiamo visto che effettivamente c'è stato un allentamento dei fusti verso questo tipo di fondi a livello globale anche in Europa però comunque la raccolta è positiva ed è superiore a quella dei fondi tradizionali quindi dobbiamo aspettarci comunque un rallentamento che è legato alla situazione contingente ma che comunque questa industria continua a mostrare una certa solidità ci spiega il grafico che stiamo guardando quali sono i paesi o comunque le aree geografiche che stanno avendo un impatto maggiore sì l'Europa è sicuramente il mercato più grande sia per gli investimenti sostenibili sia per i fondi climatici che è il grafico che stiamo vedendo a fine 2021 Morris ha stimato un patrimonio di circa 325 miliardi di dollari di questi fondi solo climatici su scala globale e appunto l'Europa rappresenta la quindi anche in questo frangente l'Europa si fa capofila di quello che è il nel contesto globale questa transizione ecologica anche in questo ambito assolutamente sì che cosa spinge la regolamentazione che in Europa è molto più accentuata rispetto ad altre parti del mondo in particolare gli Stati Uniti e quindi spinge e aumenta l'interesse degli investitori una sensibilità crescente degli investitori e anche un'offerta da parte delle case di gestione che è crescente su questo tipo di fondi quindi l'Europa rimane non solo il mercato più grande ma anche quello più diversificato e questo è proprio perché c'è un forte impegno a tutti i livelli su fronte del climate change che non sempre si traduce in cambiamenti alla velocità che vorremmo che comunque è importante vedere a livello di investimenti ricordiamo che i fondi climatici sono strategie che vanno a catturare le opportunità derivanti dal cambiamento climatico o vogliono ridurre i rischi proprio legati alla transizione climatica quindi strategie low carbon strategie che investono in energie alternative oppure anche in green bond uno dei temi anche emersi politicamente quantomeno nel nostro paese ma in generale nell'Europa è che la situazione la congiuntura economica i venti di guerra e tutte le altre incognite che stiamo vivendo potrebbero rallentare questa transizione ecologica e gli obiettivi anche ambiziosi che aveva posto l'Unione Europea anche collegandoli ai fondi che vengono assegnati ai vari paesi ovviamente staremo a vedere ci auguriamo tutti che la tabella di marcia proceda senza ulteriori intoppi o senza rallentamenti ma è possibile metterli in conto abbiamo citato prima le centrali a carbone che sembravamo destinati a dimenticarle in fretta e invece sono tornate al centro delle cronache proprio perché si cerca di ridurre la dipendenza dal gas russo io ti farei ancora un'ultima domanda Sara e in particolare guardando al tema sempre della sostenibilità come si posiziona il listino azionario italiano voi avete addirittura un atlante della sostenibilità quindi è un tema che anche voi state seguendo con particolare interesse segno che a proposito di Atlanti che la stella polare sembra essere quella la stella polare è diventato veramente un tema centrale e i nostri sforzi sono quelli di analizzarlo proprio per aiutare anche poi gli investitori a prendere delle decisioni consapevoli l'Atlante della sostenibilità è un atlante che va a guardare i distini azionari dei diversi paesi come si comportano dal punto di vista ESG dobbiamo dire a questo riguardo che i paesi europei del nord guidano la tastifica sono diventati azionari più sostenibili su tutto come sempre dovevamo aspettarcelo e quindi nessuna novità l'Italia comunque non è mal posizionata dal punto di vista ESG perché si piazza dodicesima su 48 mercati azionari che guardiamo e quindi comunque possiamo dire che dal punto di vista della sostenibilità abbiamo un buon punteggio in termini di controllo dei rischi ESG invece l'Italia non si classifica così bene dal punto di vista del carbon risk quindi il rischio carbonio e quindi stiamo parlando di ambiente l'Italia va molto peggio rispetto a quella che è la sua posizionamento a livello di sostenibilità perché si piazza al trentesimo posto su 48 quindi Borsa Italiana paga ancora il porto peso del settore energetico e industriale dove il carbon risk in molte aziende che pesano molto sul listino è ancora troppo alto quindi qua abbiamo veramente da ragionare sul futuro e sulla riduzione e sulla implementazione di strategie di transizione energetica che ci portino a dei target a raggiungere dei target degli obiettivi significativi di riduzione di questo rischio certo poi tanto sui listini azionari quanto nell'economia reale uno dei temi che globalmente è emerso è che l'Europa si fa capofila per questa transizione ecologica ma poi gli altri paesi sono un po' resti a seguirla e quindi diciamo che c'è questo dislivello lo vedevamo anche nel grafico che i paesi asiatici sono tuttora molto indietro su questo fronte e si spera che quantomeno il pungolo dei paesi occidentali possa fornire nuovi spunti anche a mercati che invece hanno una visione molto più tradizionale che puntano a una crescita veloce senza troppo guardare a questo tipo di riverberi sull'ambiente allora noi siamo in chiusura ringrazio per la panoramica e l'attenta analisi Sara Silano editorial manager di Morningstar Italy potete continuare a seguire gli aggiornamenti ovviamente anche su morningstar.it intanto grazie Sara grazie a voi e buona giornata a tutti marketstar torna all'inizio del prossimo mese come sempre per dare un'occhiata una visione una prospettiva ma invece noi torniamo tra pochissimi minuti a tutti andiamo a tutti a tutti a tutti Grazie a tutti.